Prova a pigiare, se no. Vedete lo schermo? Perfetto. Vabbè, cominciamo. Sì, posso guardare il chiedo. Ciao a tutti di nuovo. La partiamo con questa seconda puntata e faccio un veloce riassunto della fine della puntata precedente. Si era partiti raccontando dei magneti, delle elettrocalamite. In particolare era visto appunto che Archimede, una delle tante invenzioni purtroppo impossibili di Archimede, era quella dell'aeronave elettromagnetica in questa storia del 62. C'avevo un anno. L'idea è che Archimede ha inventato una potentissima batteria. Con questa ci manda un'elettrocalamita che attirando la navicella a cui è fissata potrebbe andare senza, come si chiama, tipo elicottero. Quindi abbiamo visto che la faccenda non funziona, anche se ci sono delle realizzazioni che a prima vista sembrerebbero simili all'idea di un sistema chiuso su cui un oggetto fa un'azione e quell'altro dovrebbe fare una reazione e teoricamente non dovrebbe muoversi. Ma questo qui lo fa essenzialmente perché in realtà il ventilatore quando aspira, in realtà aspira tutte le direzioni, probabilmente se uno mettesse degli schermi in fondo forse riuscirebbe a incannalarlo di più. Mentre quando la bella rimbalza, fa rimbalzare l'aria, la rimbalza essenzialmente all'indietro perché appunto è uno schermo e quindi dovrebbe essere questa l'origine appunto dell'esperimento che vi ho fatto vedere la volta scorsa, fatto con il ventilatorino da mano, dovrebbe, cioè conferma una cosa di questo genere. Allora però ripartiamo con l'aeronave elettromagnetica e cosa succede? Succede che Paperino viene mandato sopra a esplorare, a collaudare la faccenda, non se l'accorge ma l'aeronave comincia a deviare, a deviare perché Paperino, ovviamente, anzi sono io qua, che dice il fatto è che la calamita si comporta come il lago di una bussola, viene attirata verso il polo nord. Ora, in realtà, ci domandiamo ma è vero che il lago di una bussola viene attirato verso il polo nord? Sicuramente noi sappiamo che la bussola punta verso il polo nord, cioè ci indica il nord oppure ci indica il sud, a seconda di come uno la vuole vedere. Però non è che la bussola di per sé si sposta, la bussola è un ago che ha, anche lei è una calamita, quindi ha un nord e un sud, e punta verso il nord. Ora, per cominciare, la cosa un po' buffa è che il nord, il polo nord, è il polo sud magnetico, perché la Terra si comporta anche lei come una calamita, e ovviamente essendo il nord della calamita attratto verso il sud di un'altra calamita, e viceversa, il sud attratto verso il nord, vuol dire che la Terra, quello che noi chiamiamo il polo nord geografico, è il polo sud magnetico. E vedete, la Terra si comporta come una gigantesca calamita, come sapete sicuramente non è che faccia perché ci sono dei depositi magnetici, ma è dovuto al fatto che all'interno della Terra è fluido, è essenzialmente composto da ferro fluido, quindi è un materiale conduttivo, e ci sono delle correnti dovute al moto rotatorio della Terra, e praticamente questo moto rotatorio fa sì che questo fluido sia in movimento, ed essendo in movimento, praticamente si comporta come se fossero delle spie di corrente, una cosa molto complicata, che ancora non si sa fare un modello molto semplice, io ho guardato in giro, ma soprattutto i modelli sono essenzialmente molto complicati, molto computazionali, e sapete anche che il polo si sposta, anzi, dei carutaggi sulle dorsali oceane aniche, le dorsali oceane aniche c'è del magma che esce, e quindi forma delle colate estremamente enormi, che sono quelle anche in qualche maniera che portano allo spostamento, alla deriva dei continenti. Ora, i materiali magnetici, lì c'è del ferro, in queste colate, quando al di sopra di una certa temperatura sono paramagneti, ovvero si orientano con il campo esterno. Quando si scede sotto la temperatura di Curie, invece diventano ferromagnetici, cioè mantengono l'orientamento magnetico, anche in assenza di campo esterno. Allora, se noi si va a vedere questi carutaggi, si vede che nei secoli il polo nord e il polo sud si sono scambiati, ci sono stati anche dei periodi in cui non c'è stato il campo magnetico terrestre. E ora si sta spostando parecchio rapidamente il polo nord magnetico. Adesso mi sembra che, non mi ricordo più, si sta andando dal Canada verso la Siberia o viceversa. Molto rapidamente, soprattutto in questi ultimi anni, e c'è chi dice che potrebbe essere un'anticipazione di un'inversione del campo magnetico, cosa che sarebbe estremamente pericolosa, perché il campo magnetico terrestre è anche responsabile delle fasce di Van Allen, che vuol dire che sono le fasce in cui vengono intrappolate il vento solare e anche le particelle cosmiche, ovvero che vengono poi incalanate verso il polo nord o verso il polo sud e danno luogo alle aurore boreali quando entrano nell'atmosfera. Ora, questo campo magnetico ci protegge appunto da queste radiazioni solari e quindi se dovesse smettere sarebbe un problema, insomma. Non che ci si muoia tutto improvvisamente, ma insomma sarebbe un grosso problema anche per i satelliti in orbita bassa che stanno essenzialmente all'interno di questa zona protetta. Va bene, ora però guardiamo un po' come funziona l'attrazione tra due oggetti carichi. Chiaramente cominciamo con quell'elettrica che è forse più semplice. Sapete tutti che si può, per esempio, prendendo una penna di plastica, struzionandola sul golf, si può caricare e con questa penna si può attrarre i pezzettini di carta. Come funziona la faccenda? Le pezzettini di carta ovviamente non sono carichi di per sé, sono neutri. Però immersi in un campo elettrico può succedere due cose. Si può separare una carica, supponiamo che siano neutri, però gli elettroni che sono negativi vengono un po' più attratti dalla parte, diciamo, positiva del campo elettrico. La parte positiva viene attratta dalla parte negativa, quindi in un campo elettrico anche una molecola neutra tende a formare quello che si chiama un dipolo, cioè avere una carica sbilanciata. Poi ci sono le molecole polari, come anche l'acqua, per esempio, che hanno già questa separazione, perché per esempio nell'acqua l'ossigeno è negativo e i due protoni dell'odrogeno che tengono meno vicino a sé gli elettroni, quindi gli elettroni migrano praticamente in gran parte, per gran parte del tempo, diciamo così, intorno all'atomo di ossigeno. Quindi l'acqua è polare e in questo caso quindi ha un dipolo permanente e questo dipolo tende a orientarsi in un campo magnetico, in un campo elettrico, scusate. Bene, quindi come si vede qui, le cariche tendono a disporsi come il campo elettrico, in realtà all'opposto, ma insomma diciamo questo non ci interessa. Lo stesso avviene quando si mette una calamita, che è quindi l'equivalente di una cosa polare, in un campo magnetico. La calamita ovviamente si orienta secondo il campo magnetico. Però in realtà se il campo magnetico è uniforme non c'è nessuna forza, perché tanto viene attratta la carica, diciamo, positiva o il polo nord verso il polo corrispondente quanto viene repulsa la carica positiva. Quindi se voi mettete un campo elettrico uniforme o mettete un campo magnetico uniforme, da una parte non è che si addensino le molecole da una parte rispetto a quell'altra, né tantomeno le calamite vanno da una parte all'altra. Ora, quello che succede però è che se il campo non è uniforme, come per esempio il campo generato dalla mia penna carica o anche da una calamita, non è uniforme, è fatto tipo il campo di, come questo qui, come un campo di dipolo. È più intenso in certe zone, meno intenso in altre zone. Quindi, quando abbiamo un dipolo immerso in un campo non uniforme, il dipolo si orienta, per prima cosa. Poi, da una parte viene tirato di più di quanto viene repulso da quell'altra parte. Quindi, la forza di attrazione è in qualche maniera la forza, tra virgolette, residua rispetto, dovuto al fatto che da una parte il campo è più forte, da una parte il campo è più debole. Ora, abbiamo detto quindi, abbiamo fatto questa analogia tra cariche elettriche, che quindi hanno questi due meccanismi, quello che si chiama la polarizzazione più l'orientamento. In un campo magnetico, ora vedremo come, diciamo, la conseguenza per i paperini, in un campo magnetico abbiamo sempre, anche lì, due, oltre, diciamo, il campo magnetico sono tre cose, tre oggetti. Il fatto che un atomo, anche che non abbia un momento di magnetico permanente, se viene infilato in un campo magnetico, forma un dipolo, però, differentemente da quello che succede nel campo elettrico, il dipolo qui si forma all'incontrario rispetto a quello che fa il campo elettrico. Il diamagnetismo, questo qui, funziona esattamente all'incontrario come funziona i materiali dielettrici. I materiali dielettrici si orientano in questa maniera. I materiali, invece, diamagnetici si orientano esattamente in maniera opposta, perché, essenzialmente, il magnetismo è dovuto, in un quadro classico, anche se poi non torna, ma insomma, è quello più facile da capire, è dovuto, come se fosse originato da una corrente, dagli elettroni che girano, per esempio, intorno al nucleo. Quando gli elettroni sono in numero pari, tanti girano, se volete, in un verso, tanti girano nell'altro verso, e quindi non c'è un momento permanente. Però, infilati in un campo elettrico, diciamo, alcuni tendono a accelerare, altri tendono a rallentare, cercando di compensare, se volete, il campo elettrico che entra dentro la spira. E quella si chiama la legge di Lenz, che è quella su cui si basano i trasformatori. I trasformatori sono fatti in questa maniera. Abbiamo due bobine affiancate, in una ci va una corrente che è uscillante, la nostra corrente, che aumenta, tutte le volte che aumenta la corrente da una parte, nell'altra bobina si stabilisce una corrente che va in senso opposto, cercando di neutralizzare questo aumento. E questo qui fa sì che dall'altra parte appunto venga un'altra corrente alternata e calibrando le spira si può aumentare o abbassare la tensione. Viceversa, se ci sono atomi che per esempio hanno un elettrone spaiato, oltre a questo meccanismo del diamagnetismo c'è il fenomeno del paramagnetismo, ovvero è come è l'equivalente delle molecole polare dell'acqua. La molecola si tende a orientare questa volta in maniera diretta come il campo. Infine, nei materiali ferromagnetici succede che grandi zone rimangano tutte allineate uguali, cioè sono come se fossero questi atomi come se fossero attaccati. E quindi, anche quando, mentre in un materiale paramagnetico, quando leva il campo magnetico l'agitazione termica fa sì che gli spin si orientino tutti a casa e quindi il materiale non è più magnetico, in un materiale ferromagnetico rimangono tutti fermi. Ora, cosa succede quindi? Che, questo diciamo, che ci sono alcuni materiali che sono essenzialmente molto diamagnetici, cioè vuol dire, non è che sono molto diamagnetici, in realtà vuol dire che non sono paramagnetici e neanche ferromagnetici, perché il diamagnetismo è in tutti i materiali, ma è molto debole e quindi di solito viene mascherato. E quali sono questi materiali? i più famosi sono il bismuto, l'antimonio. Se andate a vedere sul web si vedono pezzi di bismuto che galleggiano sopra delle magneti. Lo può fare in realtà anche il carbonio, però ci vuole venire a prendere un carbonio sicuramente leggero, cioè un pezzo di carbone, ma ci vuole molto poroso, se no casca giù, non ce la fa e anche l'oro. E guardiamo che cosa succede. Succede che in questa avventura del 72 Paperone ha, diciamo, una sua nave ha scoperto che c'è un cofano su questa montagna sottomarina, montagna che si eleva rispetto al fondo circostante di, non mi ricordo, 3.000 metri, qualcosa di questo genere e va a pochi, a pochi, una profondità, diciamo, raggiungibile qua. Ora, metà dell'avventura in realtà è composta da Paperone che cerca di convincere Paperino a andare sott'acqua e noi la saltiamo. Però quando alla fine l'è riuscita a convincerlo, lo mettono in un batiscafo, lo fa andare giù e Paperino dice, ah, il cofano è, diciamo, di legno, però è coperto da borchie metalliche. E questo è quello che voleva sapere Paperone perché a questo punto tira fuori, cioè ritira su il batiscafo, tira fuori una calamitona e dice, è una calamita ad altissimo potenziale e poiché il, e la calamita al tirare al ferro riuscirò a tirare fuori il mio cofano. Ah, ma io, ovviamente, anche se qui porto il cappello di, non so se è di qui, perché lui ci dovrebbe avere il cappello blu, comunque dice, attento, che l'oro è un metallo diamagnetico, eh? Ah, ma che me ne frega fa Paperone, lo tira fuori e effettivamente il cofano arriva fuori dall'acqua, ma a un certo punto comincia a sfasciarsi e le monete volano tutte via. Facile a capirsi, dice il solito Paperino, mio fratello, diciamo, l'oro è un metallo diamagnetico, perciò non viene attratto, ma respinto dalla calamita. ora, la spiegazione invece che da qui è veramente poco plausibile, perché dice così ha fatto forza contro le pareti del cofano, finché venuta a mancare la pressione esterna dell'acqua, boom! ora, diciamo, è un po' implausibile che questo cofano di legno sia impermeabile, ovvero che l'acqua non entri dentro e che quindi la pressione esterna sia diversa dalla pressione interna, diciamo, forse, forse, forse di metallo, forse, forse, ma insomma, di legno sicuramente no, il legno sicuramente si è spaccato, cioè ha fatto entrare l'acqua, quindi la pressione interna e quella esterna sono uguali. Ovviamente quello che manca qui è la spinta d'Archimede, ovvero, come sapete, gli oggetti tra virgolette pesano di più fuori dall'acqua rispetto a quando sono sott'acqua, cioè uno può facilmente sollevare una pietra sott'acqua mentre magari tirarla fuori dall'acqua quando si tratta di tirarla via comincia a diventare difficile e quindi, diciamo, la spiegazione, se volete, fisica, io non credo, ho fatto un po' di conti la repulsione diamagnetica è veramente molto piccola. Si può farlo vedere anche a casa, ora vi faccio vedere, però è veramente molto molto piccola, a tranne che in alcuni casi particolari come appunto i bismuto. Quello che succede è che probabilmente, una cosa così può benissimo succedere, perché il legno marcio non ce la fa a tenere il peso delle monete d'oro, anzi, se si guarda quante monete d'oro ci sono qui e probabilmente qui dentro c'è un par di quintali di oro, insomma, veramente difficile da trattenere. Ora, si può fare appunto anche a casa questo esperimento, è piuttosto divertente, ci vogliono delle calamite forti, ma ormai le calamite forti si trovano in ferramenta, insomma. Qui ci viene una bacchettina di plexiglass oppure si può usare anche un, io l'ho fatto anche con una provetta piena d'acqua funziona uguale. Quindi, si sospende a un filo abbastanza lungo e si lascia chiaramente andare in equilibrio, quindi realizziamo quello che si chiama un pendolo di torsione, cioè l'elasticità del filo tende a tenere fermo in una certa posizione, dipende un po' da quanto è arrotolato il filo, quindi è meglio usare una lenza piuttosto che un filo di cotone perché lui ha una torsione sua di solito è più difficile dell'equilibrio e vedete che avvicinando un magnete piuttosto forte anche la plastica che contiene molto carbonio quindi anche la plastica diamagnetica si allontana, vedete, però ovviamente come vedete la forza è estremamente debole, cioè non è che riusciamo a far galleggiare questa stecchettina sopra una calamita, però possiamo riuscire a girarla. Un'altra cosa ancora più divertente che è un oggetto che si può anche comprare ma si può anche realizzare è questa qui, ovvero prendere tutta una serie di calamite, disporle alternativamente, c'è un articolo se l'andate a vedere comunque essenzialmente vanno messi a Polo Nord e a Polo Sud opposti su una sbarrettina di ferro così stanno fermi e poi ci viene infilata una, ci viene messa sopra una mina, una mina di quelle da, dall'apis di ricambio. Ecco, questo qui è chiaramente la mina è fatta di carbonio, il campo abbastanza intenso da tenerlo, da tenerla separata, da tenerla lontana eh? E e come vedete la mina galleggia sopra questo questo campo magnetico ci sono si trovano anche a comprare degli oggetti fatti più o meno così dove c'è degli oggetti che galleggiano sopra dei campi magnetici ma questo c'è il vantaggio che uno se lo costruisce per conto suo e chiaramente galleggia a una distanza di pochi di un millimetro così se no appunto se uno ci avesse del carbonio più leggero ci sono si può anche diciamo essenzialmente venire a prendere una specie di un tessuto farlo carbonizzare allora rimane una cosa chiaramente fragilissima ma molto leggera e quella si riesce a fare galleggiare più facilmente però questo è piuttosto divertente e ora quindi finiamo con la storia della della nave elettromagnetica dopo Paperone a un certo punto gli sfugge di mano il bastone che ha la punta di ferro viene attratto dalla calamita e quindi colpisce però nella testa Paperina che sviene l'aeronave ormai senza guida prosegue il suo viaggio e chiaramente passa sopra il deposito di Paperone e cosa succede? Ovviamente nei fumetti succede che l'aeronave tira su il deposito di Paperone anche questo diciamo la fisica avrebbe qualcosa da ridire perché va bene supponiamo che c'è sicuramente una forza magnetica tra l'aeronave e il deposito però non si capisce perché l'aeronave dovrebbe tirare su il deposito e non essere tirata giù dal deposito che è ancorato è estremamente più pesante e quindi la fisica direbbe che sarebbe l'aeronave che si appiccica sul deposito invece riprende il suo volo riescono a montare andare tutti sul deposito anzi no sono ancora qui anche se disegnati i depositi in realtà sono sull'aeronave elettromagnetica adesso è un errore diciamo di scenografia che però va a passare sopra il mare dove c'è un'esercitazione dove sparlano questi proiettili i proiettili a loro volta vengono attratti da questa calamita e cominciano a orbitare intorno a questo qui dopodiché questa volta sarà qua probabilmente dice ah basterebbe diminuire la corrente elettro calamita però Paperone sbaglia a levare la corrente e ovviamente il deposito crolla in mare e poi va bene ovviamente c'era di fare lo stesso con Paperino che scappa via questa è sempre la conclusione è sempre quella lì va bene parliamo adesso di tutt'altro è un'avventura estremamente divertente ovvero del solvente universale come vedete Archimede è chiaramente famoso per aver inventato tantissimi oggetti normalmente poco utili o almeno che hanno sempre qualche difetto ma in questa avventura di Don Rosa Paperone chiede a Archimede di inventargli un nuovo sistema per estrarre diamanti dalla dalla terra cioè il problema è che i minatori costano cari fare le gallerie costa caro i diamanti si trovano questo è vero vengono formati a altissime pressioni e quindi tipicamente all'interno della terra e quindi il problema è andare a prenderli e allora Archimede inventa una cosa che lui chiama il solvente universale una cosa che può sciogliere come vedete qui diciamo può penetrare i materiali più diciamo resistenti e guardiamo quali materiali elenca qui il primo è il piombo l'acciaio e il ferro diciamo l'acciaio l'acciaio al tungsteno l'acciaio al carbonio l'acciaio al titanio l'impervium che è un'altra invenzione di Archimede con cui è fatto il deposito di Paperone e anche il contratto Disney ovviamente questa è la battuta di di Don Rosa che ce l'ha con la Disney perché non gli fa fare nulla insomma il contratto e poi non gli fanno neanche firmare i fumetti insomma e questo qui è appunto il sorvento universale ma che succede? succede che anzi no come funziona? mi è venuto a vedere Archimede ovviamente l'ha fatto in maniera che dissolva tutto tranne il diamante non si sa bene perché e quindi lui fa vedere che con ha cosparso questo ombrello ci ha collato sopra questa polvere di diamante infine con un pennello sempre anche questo qui fatto in cui i peli sono ricopetti di polvere di diamante ci spenella sopra questo solvento universale e a questo punto qualsiasi cosa ci butti sopra viene convertito in polvere vedete qua? polvere che lui chiama ultradensa perché è pesantissima cioè essenzialmente la massa di questi oggetti viene mantenuta in questa polvere viene convertito quindi più che un solvente è un compressore insomma mettiamola in questa maniera ora può funzionare una cosa del genere? sì effettivamente può funzionare ci sono anche gli esempi in natura chiaramente non è facile farlo in un laboratorio perché essenzialmente lo si può fare se si comprimono praticamente gli elettroni dentro i protoni e si va a diventare tutto neutroni sapete la materia è formata da elettroni che sono leggeri carica negativa protoni molto più pesanti circa 2000 volte più pesanti di carica positiva e neutroni neutri di massa un po' maggiore di quella del protone un po' minore di quella protone più elettrone ora in realtà neutroni e protoni sono fatti da quarks diciamo fatti abbastanza simili semplicemente i neutroni c'ha due quark down down e up sono solo nomi e un quark up il protone c'ha due quark up e un quark down quindi in realtà sono abbastanza simili solo che i quark sono carichi il neutrone ha una combinazione neutra il protone ha una combinazione positiva all'interno di un nucleo sono presenti tutte e due e poi vedremo perché i neutroni scambiano continuamente identità con i protoni essenzialmente si scambiano degli oggetti che si chiamano gluoni che cambiano l'identità dei quark e questo scambio dà alla fine una forza altrattiva molto intensa che riesce a compensare la repulsione elettrica tra i protoni quindi più di un protone non ci starebbe l'idrogeno ci sta anche senza neutroni se ci si mette due protoni si andrebbe a repellersi se mettiamo però abbastanza neutroni in particolare per esempio due allora la forza che tiene insieme protone e neutroni è sufficiente a tenere l'elio a rendere stabile il nucleo dell'elio in una stella che vogliano combinazioni un po' particolari perché se la stella è troppo piccola semplicemente si spegge se la stella è troppo grande esplode come una supernova e quello che resta diventa un buco nero se la stella però ha una massa diciamo adeguata prima quando finisce l'idrogeno comincia a bruciare l'elio quando finisce di bruciare l'elio brucia per pochi istanti in realtà gli altri elementi a un certo punto però il tutto in una stella la dimensione della stella per esempio il nostro sole la densità di una stella è molto per esempio del sole è vicino a quella dell'acqua non è molto densa e perché cosa succede? succede che la pressione di radiazione delle radiazioni nucleari tiene a distanza il gas il gas galleggia praticamente verrebbe attratto alla gravità ma viene repulso da questa pressione di radiazione e quindi la stella mantiene la sua forma ora per esempio ci sono alcune stelle che oscillano le stelle soprattutto quelle rosse come anche Beltegeuse che si pensa che stia vicino all'esplosione di una supernova vicino vuol dire che entro qualche milione di anni potrebbe esplodere o anche qualche centinaia di migliaia di anni e cominciano a oscillare anche Alfa Centauri è una rossa che è molto instabile quando finisce di bruciare cosa succede tutto casca verso l'interno si comprime rimbalza e questa l'esplosione supernova è essenzialmente un rimbalzo non è che ci sia un qualcosa che esplode essenzialmente gran parte della massa rimbalza e viene espulsa quello che rimane può appunto comincia a collassare perché non c'è più nulla che lo tiene a distanza se è troppa roba diventa un buco nero se è troppo poca rimane lì se è in una zona intermedia la gravità può riuscire a comprimere gli elettroni dentro i protoni e diventa tutto neutroni ora i neutroni sono fermioni e quindi non vogliono non possono stare tutti nello stesso punto come anche un nucleo atomico un nucleo atomico ha un'attrazione perché infatti è molto difficile staccare via qualcosa a un nucleo atomico però non può collassare in un punto solo perché appunto i neutroni e i protoni sono dei fermioni e non possono stare tutti insieme quindi una stella di neutroni che è essenzialmente un grosso enorme nucleo atomico è una stella che ha la dimensione data proprio dalla spazzatura fitta fitta di protoni un attaccato all'altro e è estremamente densa estremamente densa vuol dire che ha una densità vedete di 3 per 10 alla 17 l'acqua è 1 per 10 alla 3 quindi è circa 5 mila volte più no non 5 mila volte 500 mila volte più densa dell'acqua un cucchiaino di neutroni mi sembra ecco sì lo scritto qua pesa 300 milioni di tonnellate quindi ovviamente è esattamente quello che si vede qui diciamo sicuramente non è questo mucchio qui basterebbe ne basta molto meno cioè se fossero tutti i neutroni si verrebbe compresso in qualcosa di estremamente estremamente più denso e l'altra l'altra cosa però è che quindi vedete qui ci sono un po' di conti se poi volete rifarveli o guardarli no vedete la dimensione di un nucleo atomico è minuscola perché diciamo questo qui è 100 pico la dimensione del nucleo è un femto che è un ordine di grandezza quindi appunto c'è circa 10 alla quinta volta 10 alla quinta la l'ordine diciamo la differenza di dimensioni se volete un atomo è completamente vuoto ci sono gli elettroni sparpagliati quella pochi piccolissimi e il nucleo che è in mezzo e tutto il resto è vuoto e ora però chiaramente si diceva che sono fermioni i fermioni cioè il fatto che i fermioni non possono stare tutti nello stesso tra virgolette stato è alla base della chimica anche gli elettroni sono fermioni se non fossero fermioni cascherebbero tutti diciamo in un oggetto una palla tonda e fine non ci sarebbe chimica tutti gli elementi sarebbero esattamente uguali invece il fatto che sono fermioni fa sì che due possono stare nell'orbitale più piccolino che è quello tondo questo qui gli altri devono cominciare ad andare in orbitali più diciamo più grossi quindi questo se volete è la forma tra virgolette dell'atomo di elio e chiaramente anche di tutti i gas nobili perché i gas nobili sono quelli in cui sono riempiti tutti questi qui e si va alla palla successiva che è un po' più grossa gli altri elementi invece gli elettroni devono andare in degli orbitali diversi e quindi hanno proprietà chimiche differenti e quindi diciamo è la chimica quello che ci salva e appunto qui vi faccio vedere il meccanismo per cui i neutroni e i protoni si scambiano l'identità questi qui sono appunto anzi ho detto gluoni no ma sono i pioni i gluoni sono quelli che sono questi qui che tengono insieme i quark questi qui sono pioni composti da un quark e un anti-quark e questo diciamo giusto per fare un po' di figurine che piacciono ai fisici si scambiano tra di sé quindi vedete praticamente vi si vede questo protone che diciamo che scambia un anti-down e un up con un neutrone l'anti-down si annichila con il down l'up rimane qui e quindi lui diventa un protone questo qui avendo perso un up e avendo guadagnato un down diventa un neutrone vabbè sono giochetti che piacciono tanto ai fisici questi qui però i neutroni da sé se sono isolati non durano tanto durano circa 15 minuti che è un tempo enorme per le reazioni nucleari però non sono stabili cioè per esempio tutti quegli sono tutti i neutroni sono stati creati all'inizio quando diciamo l'universo è diventato abbastanza freddo che sì che i quark sono andati a cascare e si sono si sono create le participe elementari si fa un conto e si vede che si creano quasi tanti protoni quanti neutroni però la gran parte di questi neutroni decade perché è isolata alcuni pochi si uniscono ai protoni e formano dei nuclei di deuterio la maggioranza dei neutroni decade in protoni emettendo un elettrone è il decadimento beta quindi i neutroni da sé sono instabili e questo è per esempio sia questo qui che questo meccanismo sono la radice del fatto che i neutroni sono estremamente nocivi per la salute perché prima perché decadono e quindi emettono diciamo radiazione insomma emettono particelle cariche e poi perché scambiandosi l'identità che è diventando protoni possono venire assorbiti facilmente da nuclei atomici oppure anche semplicemente da neutroni e li rendono instabili perché i nuclei sono stabili se hanno abbastanza neutroni ma non troppo cioè questa qui è una figurina piuttosto bella che dove ci abbiamo nella scissa il numero di mettiamo di protoni e nell'ordinata il numero di neutroni se ci sono troppi protoni il nucleo è instabile perché la ripulsione elettrica non può essere combinata non può essere trattenuta da neutroni quindi dopo un po' si spacca se ci sono troppi neutroni succede che non ce la fa a scambiare anzi in realtà l'ho messo a rincontrare il protone sull'asse Y il neutrone sull'asse X comunque quasi uguale se ci sono troppi neutroni quindi qui i neutroni non scambiano abbastanza rapidamente abbastanza spesso la sua identità con i protoni rimangono isolati e quindi decadono perché praticamente questo meccanismo non è compensato da quell'altro questo meccanismo è simile al primo pezzo di questo però questo pione se non viene convertito tende a decadere quindi noi andiamo a fare questo grafico con tutti gli atomi tutti i nuclei diciamo che conosciamo vediamo che si dispongono grosso modo sulla diagonale qui potete andare a piegare perché ci vuole un pochino più di neutroni rispetto ai protoni e via via che ci si allontana questa fascia grigia sono cioè questi qui sono gli atomi stabili nella fascia grigia ci sono quegli instabili cioè gli isotopi radioattivi ora cosa succede se uno di questi atomi anche stabili cattura il neutrone si sposta e quindi può andare facilmente a cascare nella zona radioattiva quindi ovvero diventa instabile quindi e questo per esempio è un problema perché quando noi facciamo delle centrale nucleari sapete le centrale nucleari quelle a fissione funziona che l'uranio 238 che è instabile no sì no è stabile il 238 no scusate il 239 credo che sia quello che si usa nelle centrali non ricordarmi più comunque se cattura un elettrone un protone se cattura un neutrone diventa insomma diventa instabile esplode e libera altri tre neutroni i quali a loro volta possono essere catturati da un altro nucleo e così via questa è una bomba atomica in una centrale nucleare ci mettiamo dei materiali che assorbono neutroni in maniera da controllare questa reazione ma quello che succede è che i neutroni vengono catturati non solo dagli atomi di uranio ma vengono catturati anche che ne so dal cemento della centrale e quindi alla fine diciamo del suo funzionamento abbiamo una bella centrale fino a di cemento che è diventato radioattivo e quindi il grosso problema è poi dopo dove facciamo tutta questa roba radioattiva che viene attivata da neutroni ora questa chiaramente tutto questo giochetto qui ha a che fare anche su come si è formato il nostro universo come si sono formate le sostanze che appunto dicevo all'inizio c'è solo energia quindi via via che l'universo ci espande si raffredda arriva a una fase di raffreddamento in cui c'è abbastanza poca energia che si possono formare le particelle stabili prima si creavano e si distruggevano costantemente e si formano appunto protoni neutroni e elettroni i neutroni dopo poco decadono e diventa tutto protone e c'è un po' di deuterio e basta questo è quello che si viene creato durante il Big Bang tutti gli altri elementi vengono creati nelle stelle nelle stelle la forza gravità tiene insieme in alta densità questo gas di idrogeno alcuni diciamo dei materiali di deuterio che può essere radioattivo trizio da inizio poi la forza gravità fonde fa avvicinare quindi riscalda tantissimo a cominciare perché l'energia ovviamente si conserva quindi il gas che prima era supponiamo freddo a una certa distanza via via che si abbassa l'energia gravitazionale aumenta l'energia cinetica quindi il gas diventa caldissimo collidendo questi nuclei possono avvicinarsi vincere praticamente per caso la repulsione elettrica e quindi avvicinarsi a questo punto si possono fondere i neutroni si formano dei neutroni sempre per per fluttuazioni che possono incollare tra loro gli atomi e quindi diciamo praticamente quattro atomi di idrogeno possono diventare un atomo di elio e libera un casino di energia e questa qui quindi continua ad andare avanti il sole fino a che tutto l'idrogeno viene bruciato viene fatto elio vengono fatti anche altri elementi soprattutto nelle stelle più pesanti vengono fatti quindi carbonio ossigeno e così via fino al ferro il ferro è il materiale se volete più stabile che è quello che ha l'energia di legame più forte tutti gli altri elementi più pesanti del ferro sono ci vuole energia per farlo e quindi teoricamente nelle stelle non si dovrebbero fare in realtà si formano o durante l'esplosione di supernova perché l'esplosione di supernova c'è questo enorme rimbalzo che crea anche una grande energia e poi dopo la stella si espande quindi si raffredda rapidissimamente quindi se in questa fase qui si formano gli elementi che normalmente verrebbero tra virgolette ribruciati all'interno di una stella in realtà l'espansione fa sì che si freddi e quindi si possa rimanere lì e noi per esempio il nostro sole ha e la terra e così via hanno elementi diversi dall'idrogeno e dall'elio perché il sole è una stella di seconda generazione quindi prima ci sono state altre stelle che sono esplose hanno creato gli elementi pesanti che poi hanno formato la terra e tutti i pianeti e anche i materiali che stanno diversi dall'elio e dall'idrogeno che stanno dentro il sole e ora in realtà si è scoperto da poco che questi materiali pesanti possono crearsi anche nella collisione delle stelle di neutroni come quello è stato osservato dagli osservatori delle onde gravitazionali perché in quel caso lì quando due stelle di neutroni si uniscono pezzi di roba vengono sparati nello spazio questa roba sparata nello spazio vuol dire neutroni buttati in là ora quando non sono più tenuti dalla gravità i neutroni tendono a decadere quindi questi blob di neutroni in parte diventano protoni si frantumano e lì possono creare tutti gli atomi praticamente come ne possono creare tutti insieme insomma c'è come creare tutti questi qui è come se fosse un enorme nucleone qua quindi oltremodo instabile e questo si spacca si decade fino a che non arrivano a formarsi praticamente tutti gli elementi possibili immaginabili e noi la terra abbiamo oltre al fatto che esistono questi materiali perché è fatto è una stella il sole è una stella di seconda generazione abbiamo avuto anche una fortuna mostruosa perché voi pensate se io avessi un brodo perché chiaramente quando la terra si forma è estremamente calda quindi è tutto fuso per questo la terra è sferica dove ci stanno elementi di diversa densità quello che succede è che tutto il ferro dovrebbe andare nel nucleo in effetti il nucleo della terra è essenzialmente composto di ferro di nickel però sulla crosta del resto dobbiamo avere solo gli elementi leggeri e allora come facciamo a trovare il ferro vedete per esempio che Paperon de Paperoni che chiaramente ha una storia di di cercatore prospector vedete qui in questa avventura che è un'avventura di Don Rosa che riprende un'avventura di Barks copre un'enorme vena di rame mentre mentre stava facendo il cowboy e quindi decide di lasciar perdere il cowboy di diventare un cercatore di prima di rame poi chiaramente di oro e quando diventa ricco e in questa altra avventura che è piuttosto divertente in cui ci sono questi marziani vestiti di ferro ovviamente che che sono venuti sulla terra perché su Marte il ferro sta finendo e loro hanno estremamente bisogno di ferro e quindi si sono messi a raccattare tutte le navi affondate ora tra queste navi affondate ce n'è anche una in cui Paperoni aveva messo il suo primo decino perché doveva andare in Oriente voleva comprare Hong Kong e altre curiosità orientali per portarle in suo parco di divertimento a Paperopoli e quindi andando alla caccia di questo decino incontra questi marziani gli catturano catturano i paperini però Paperoni dice ah anzi no i marziani dicono se solo ci riuscissi a trovare un filone di ferro saremo salvi e Paperone trova incredibilmente un filone di ferro in questo vulcano spento dove si erano rifugiati i marziani ora sicuramente i vulcani funzionano portando su del magma che è molto più ricco di ferro rispetto alla croosta terrestre ma non sono loro l'origine del ferro e dei materiali pesanti nella croosta terrestre in realtà abbiamo due due cose che ci hanno salvato la prima è che la Terra e la Luna si sono formati per collisione tra una una prototerra e un altro protopianeta che si chiama Thea o anche Orfeus la chiamano Theia o Orfeus con la prototerra le collisioni all'inizio del sistema solare sono estremamente comuni perché per esempio pensate un po' se i pianeti si formano per condensazione di essenzialmente di materiale che sta tutto in orbita intorno al protosole pian piano questi materiali si addensano prima si addensano in strisce tipo gli anelli di Saturno poi all'interno di una striscia se non sono disturbati si addensano in un nucleo e formano i protopianeti se si formasse tutti così tutti i pianeti dovrebbero avere l'asse di rotazione perché il momento angolare si conserva tutti sullo stesso piano e tutti diretti perpendicolarmente quindi al piano dell'eclittica in realtà noi sappiamo che ci sono dei pianeti che hanno inclinazioni diverse anche la Terra per esempio Urano è quasi orizzontale ruota in direzione quasi orizzontale sul piano invece di essere perpendicolare in una maniera per spiegarlo è che ci sono state collisioni tra protopianeti si sa che se fanno delle simulazioni si vede che anche il sistema solare non è stabile potrebbe succedere che Mercurio venga sparato via dalla sua orbita nel giro di qualche milione o miliardo di anni e quindi questi pianeti poi si sa anche che ci sono tantissimi pianeti nel cosmo che non si vedono perché sono sfuggiti alle loro stelle sono diciamo dark planet sono pianeti scuri allora poi benissimo successo avevamo visto un poco tempo fa qualche anno fa è passato un coleste che veniva da un altro sistema solare è passato attraverso il nostro è andato via ovviamente per andare via a delle velocità pazzesche quindi quasi non sente l'attrazione del Sole quindi quello che è successo con la Terra e ci sono le prove e la Luna è praticamente una di queste prove è che c'è stato un pianeta che ha impattato con la Terra si è spalmato sulla Terra chiaramente fondendola in gran parte parte del mantello terrestre è andata a formare la Luna e infatti la Luna ha una composizione che è praticamente tutto uguale a quella del mantello terrestre e non ha quasi nucleo non c'è c'è pochissimo ferro all'interno rispetto a quanto ce dovrebbe avere se si fosse formata come la Terra a partire dalla nebulosa originale e quindi vuol dire che in realtà la Luna si è formata con il mantello terrestre che è stato spazzato via però il nostro vantaggio è che il nucleo di questo di questa teglia di questo pianeta che è arrivato a battere sulla Terra in parte si è affondato ma in gran parte si è spalmato sulla superficie terrestre o è entrato in orbita e poi è ricaduto teniamoci e quindi abbiamo del ferro sulla crosta terrestre però questo ferro normalmente come deve essere su Marte Marte è rosso perché c'è abbastanza ferro non tantissimo ma abbastanza ferro anche lui è rimasto dalla parte originale non così tanto come la Terra perché non ha avuto questo impatto ora però il ferro normalmente è disperso è andato a Siena il colore della Terra di Siena è dovuto al ferro contenuto nella Terra ma chiaramente non ha nessun senso cercare di di accumularlo e allora come mai abbiamo le miniere di ferro? Beh grazie agli organismi primitivi della Terra ovvero gran parte del ferro viene chiaramente dilavato dall'acqua e va a finire negli oceani nell'oceano primordiale che era un oceano essenzialmente acido il ferro era disciolto ora gli organismi primitivi come del resto fanno ancora gli organismi che vivono nelle fumarole oceani che non ricavavano la propria energia dal sole o neanche mangiando altra roba perché c'erano solo loro ma proprio dall'ossidazione del ferro quindi erano dei sistemi che come funzionano appunto alcuni organismi primitivi nelle fumarole oceani che sfruttano appunto le reazioni chimiche per assorbire l'energia ora questi organismi primitivi e cosa facevano riducevano il ferro il ferro quindi precipitava giù e questi sono quelli che si chiamano gli orizzonti a bande da cui si estrae il ferro che è bello concentrato sul fondo dell'oceano liberavano l'ossigeno perché il ferro era ossidato quindi era ferro e ossigeno l'ossigeno si libera l'ossigeno ha contaminato per loro per loro era un veleno l'ossigeno era una sostanza di scatto però a forza di liberarlo si sono praticamente suicidati però hanno riempito la terra di ossigeno e quindi adesso gli organismi possono hanno imparato a sfruttare l'ossigeno nel loro ciclo attraverso la sintesi la fotosintesi clorofilliana e quindi poi ci siamo arrivati noi che utilizziamo questo ossigeno per vivere quindi sia le miniere di ferro sia l'ossigeno nell'aria sono lì grazie all'opera dei microrganismi dei primi microrganismi che ci sono stati e andiamo avanti questo abbiamo visto quindi torniamo però al sorvento universale Paverone fa una conferenza stampa per mostrare questa grandissima scoperta però i vari giornalisti neanche ci ha portato ci hanno dato i sandwich alzi troppo pochi i sandwich per fare i piccanicchi insomma e allora Paverone preso dalla rabbia gli fa una dimostrazione pratica cioè lo versa per terra che è quello che voleva fare non gli aveva detto a Archimede che come vedete è estremamente preoccupato perché Archimede sa che questo sorvento universale corroderà la terra la comprimerà fino ad arrivare al centro della terra vedete comincia già a fare un enorme buco andando giù verso il centro della terra no mi dice ah ma voi non capite il centro della terra è liquido fuso il sorvente starà lì e dissolverà tutto vedete quindi mentre il sorvente universale sta piano piano affondando no io sempre forse qui e qua sta spiegando come vedete i paperini sono sempre quelli che sanno tutto dice ah guarda che il nucleo fuso della terra è quello che fa il campo magnetico se viene dissolto scomparirà il campo magnetico terrestre e quando non ci sarà più il campo magnetico terrestre verremo bombardati dalle radiazioni solare e poi non dice potrei vendere delle tute antiradiazioni no potrei fare degli affari ma c'è ancora peggio il nucleo fuso è quello che diciamo tiene la crosta terrestre e quando si risolverà succederanno enormi diciamo terremoti insomma sprofondamenti no e e quindi ci saranno maremoti e paperoni dice potrei vendere delle nuovi terreni che diventeranno delle spiagge beachfront insomma delle delle coste e dice finalmente quando non ci sarà rimasto nulla tranne il nucleo solido questo rimasto è là e spaccherà la terra come se fosse una come si dice una sfera di un fishbowl un acquario di vetro una una sfera di un acquario di vetro ah dice basta basta ho capito che non è bello questo qui non è buono per i miei affari e allora e allora bisogna per cominciare salvarsi perché cosa succede che il 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 buco viene riempito dall'aria ovviamente quindi questo 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 questa voragine fatta dal dal solvente universale richiama l'aria e quindi comincia vedete a aspirare dentro tutte le sedie e paperino dice accidenti sono responsabile di queste seggile che sono inaffittate vedete ah accidenti fa paperone ovviamente pensa sempre ai soldi e quindi paperino sa per essere anche lui risucchiato da questo buco quando per fortuna il cartellone vedete che eh fa che paperone aveva fatto affiggere per la conferenza stampa crolla e sigilla eh il il buco bene riusciranno i nostri eroi a salvare la terra è quello che scopriremo dopo la pausa perché eh facciamo un po' di pausa prima di andare avanti chiaramente se ci sono domande commenti eh io sono qui a disposizione mi scusi volevo chiederle eh a proposito del campo magnetico che eh di cui parlava all'inizio cioè lei diceva che il campo magnetico del polo nord mi sembra di aver capito si sta spostando verso verso la Siberia e che si corre il rischio che il campo magnetico cessi se dovesse però non c'è una possibilità di inversione sì no certo diciamo non che cessi probabilmente quello che prima o poi succederà è che si inverta perché l'ha fatto tante volte nel passato e non e i tempi più o meno sono quelli ma i cicli sono estremamente caotici quindi non è che sia facile prevedere quando lo farà però nella fase di inversione c'è una fase in cui è nullo perché praticamente devono invertirsi le correnti all'interno quindi ci sono e sapete i tempi geologici sono tempi geologici cioè a stare lì che ne so qualche decina o centinaia di anni senza capo magnetico non ci mette niente e per noi ovviamente il pericolo è quello sì 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 pensavo fosse più semplice come successione grazie un po' vedere fatemi controllare sposta elemento polo magnetico così vi dico da che parte sta andando si sta andando verso la Siberia sì e e e ha accelerato abbastanza negli ultimi anni a una velocità otto volte superiore a quella tra l'altro il polo nord si sposta più velocemente del polo sud quindi si sta storcendo e e e quindi era sul Canada e sta andando rapidamente verso la Siberia credo che stia ora quasi in acqua insomma nell'oceano stavo guardando dunque si sposta alla velocità di circa 50 km l'anno non è poco quindi non è poco ora poi cosa fa cosa diciamo lui potrebbe anche semplicemente orbitare insomma spostarsi cioè non è che ci siano precessioni eh sì tipo precessione sai come dire la magnetoidrodinamica è complicatissima ma per esempio anche i getti solari le macchie solari sono dovute essenzialmente a un fenomeno simile anche quelli anche il sole ha un intensissimo campo magnetico dovuto al fatto che è praticamente roba carica e che è dentro le correnti sia anche convettive fanno sì che si generano degli enormi campi magnetici ogni tanto questi campi magnetici emergono dalla superficie del sole ci sono delle foto delle immagini bellissime se ve le trovo le faccio vedere su come funziona sul campo magnetico solare e e queste qui possono causare degli enormi getti di particelle di materia solare e e si muovono costantemente quindi eh diciamo è veramente complicato ora leggevo che posso anche far vedere adesso una notizia dell'Ansa vediamo un po' se condivido quest'altra finestra eh qui eh ci dicono appunto che i spostamenti degli ultimi undici mila settecento anni sono stati costruiti no? e qui c'è un po' di pubblicità vediamo se me la fa le pare e vedete quindi non è che lo spostamento di per sé ora appena finisce questa pubblicità ma sono dice spostamento il po' nord geomagnetico 3200 anni fa ha raggiunto la Russia e dopo una pausa di quattro secolo di mila anni fa ha raggiunto il Nord America quindi c'era già stato lì in Russia e quindi può benissimo ritornare indietro non è che ci siano vedete che giri fa vi dicevo fa una specie di precessione può benissimo cosa può succedere e questi questi tempi qui c'è 11.000 anni siamo tempi molto più recenti rispetto all'inversione del capomagnetico di soldi ci mette un milione di anni quindi mi ricordo che quando feci la tesi sull'argile giù di Monte Carlo di Luca ci si relazionò con tutte le con la scala delle inversioni magnetiche che c'era stata in Quaternario non ce l'era diverso c'era proprio tutta una scala di inversioni magnetiche ma era un continuo non è un fenomeno no no queste inversioni si trovavano sulle argille perché si deposita il materiale per rosso e mantiene ancora il magnetismo del deposito qui l'ultima inversione si è verificata 776.000 anni fa quindi dell'ordine del milione di anni sì più o meno sì e e quindi vabbè se n'era una serie no infatti c'è una scala di grafici che fanno vedere fanno vedere se li trovo vabbè vedete quanto si mette la colorità non è che scompare del tutto però è un campo magnetico ovviamente molto più frazionato e molto meno intenso rispetto a quello che c'è ora ecco vedete questi sono gli scambi del campo magnetico come vedete può succedere di tutto ci sono periodi lunghissimi in cui non succede niente oppure scambi estremamente rapidi quindi il tempo medio qui vuol dire veramente poco vedete come cosa è successo quindi è vero noi stiamo in una fase in cui il campo magnetico è molto meno stabile che qui che nel Cretacee però è successo anche nel passato diciamo difficile dire quanto dura in ogni caso questa la scala è milioni di anni questi eh per cui vedete siamo qua non è facile dire cosa succederà nei tempi nostri bene grazie la caduta del dell'invenzione di Archimede sarebbe una specie della sindrome cinese famosa in epoca di sempre quella eh ora no la sindrome cinese in realtà è è quella che si è rischiata a Chernobyl cioè era che una centrale nucleare eh perdesse si perdesse il controllo di una centrale nucleare che non possono scoppiare non possono fare un'esplosione nucleare però possono diventare talmente calde che fondano le rocce quindi il nucleo va giù verso eh il mantello il problema non è che l'americana eh prima precedente quell'americana sì sì è precedente a Chernobyl sì a Roma lo ricordo è fonda no è già in fonda che c'è mi sembra sì quella lì che era la centrale di Roma lo ricordo ma era americana molto precedente sì ma il problema della sindrome cinese o di Chernobyl non è tanto che succeda nulla al nucleo terrestre intanto lì è più o meno questa roba il problema è che appena incontra una falda d'acqua fa fa un'esplosione eh tipo però dovuto al fatto che vaporizza l'acqua e quindi sparbaglia la roba radioattiva a tutte le fatti come del resto eh stava per succedere a Chernobyl eh in Giappone del 79 vedete con Jane Fonda appunto Michael Douglas Michael Douglas non mi ricordavo eh è la la centrale di ventana Kimberly Wells no sì questa centrale è a ventana no Kimberly Wells è la 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 ventana non so dove possa essere a California penso e volevo vedere se trovavo il video così vi lascio eh bel film quello eh ho visto tantissimi ho visto tantissimi anni fa trovavo il video eh forse questo qui ecco questo qui eh diciamo il calcolo eh basato sulle osservazioni del campo magnetico solare come vedete eh dove esce e dove sono le 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 macchie solari insomma sono sono marcano i punti dove esce il 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 campo magnetico non c'è mazzallo questo riquadro vedete quanto il campo magnetico solare è molto più dinamico di quello terrestre perché qui è tutto fuso e però questo è diciamo una simulazione un calcolo basato sulle osservazioni non è che si può fare da zero e calcolarsi il campo magnetico solare sappiamo le condizioni istantanee di tutto il sole però si può adattare le simulazioni e sincronizzarle in qualche maniera con le osservazioni del sole penso e non mi ha fatto ci vediamo tra 5 minuti siamo in pausa la registrazione riprendo la registrazione ricondivido lo schermo e eccoci qua vedete ah quindi eravamo rimasti in questo momento tragico dice ah che fortuna fa Archimede che il cartellone ha sigillato l'apertura e Paperone dice allora però siamo sempre diciamo perduti perché secondo quello che hai detto questo qui farà un grandissimo casino ora l'altra cosa che diciamo come fisico mi torna poco è che diciamo risucchi così violentemente l'aria perché diciamo quello che si vede è che il il liquido va giù ma non ha una velocità mostruosa insomma e quindi il risucchio o c'è subito cioè lui se lui va a velocità supponiamo che vada a velocità costante eh se va a velocità costante il risucchio c'è o c'è fin dall'inizio oppure non c'è per quanto teoricamente questo liquido dovrebbe comprimere anche l'aria quindi il risucchio ci dovrebbe essere anche qui teoricamente dovrebbe risucchiare l'aria e quindi anche qui ci dovrebbe essere un piccolo risucchio da parte di questo contenitore vabbè ovviamente è più bello considerarlo in questa maniera e la cosa succede succede che Archimede rapidamente costruisce una camera attenuta che eviti che entri dentro l'aria e quindi loro devono indossare delle tute pressurizzate perché non c'è aria c'è solo quella che è andata all'inizio ma che è stata attraverso di base comunque è stata assorbita dal nucleo per fortuna secondo la fisica di Archimede almeno questa polvere iperdenza che che sta che viene prodotta diciamo dal solvente universale è tale da resistere da fare un tubo solido e resistere anche al magma fluido vedete vi sono arrivati sono scesi giù in questa piattaforma con le ruote che Archimede ovviamente ha costruito in 448 stanno scendendo giù illuminati da questo lampione a batteria ovviamente e tutto intorno a loro c'è il magma fluido e ovviamente le paletti sono incandescenti ora anche questo torna un po' poco perché in una in un tubo incandescente anche loro dovrebbero rapidamente cuocersi perché chiaramente se questo se questo intorno è a qualche migliaio di gradi o anche solo a mille gradi rapidamente la parete dovrebbe arrivare a mille gradi a mille gradi sapete bene che c'è un bel idraggiamento caldo non è usce siamo sull'infrarosso ma povera stufetta elettrica la trova tutta intorno a noi ecco non è non sarebbe essere piacevole comunque dice hanno hanno papirino ovviamente ha fame perché non può mangiare perché sono dentro queste tute e il cuo o qua non so chi è dice ah siamo praticamente come se fossimo in in un'enorme cannuccia in un milkshake e poi dice ah non parlatemi del milkshake e poi tutto intorno a noi ci sono c'è il magma fluido e se non ci fosse questo tubo che ci come dice che trattiene il calore saremmo come patate arrostite ah vabbè quindi loro l'idea che è affascinante un po' alla Giulio Verne che infatti a un certo punto viene anche citato è quella che loro stanno scendendo giù in un tubo che va fino al centro della terra quindi come vedete ovviamente l'orrosa è molto preciso ci dice anche le temperature qui abbiamo questo è il mantello poi scusate questa è la crosta il mantello fluido qui è semifluido e poi c'è il nucleo diciamo di solido a 4500 gradi quindi Paperino ovviamente sempre più sempre più amato dice ma non potrebbe Archimede lasciare passare in un po' d'aria ah dice ovviamente il solito Paperino adesso siamo circa 3000 chilometri sotto sottoterra e quindi se ci fosse l'aria avrebbe avrebbe una pressione immensa perché ovviamente anche l'aria si dovrebbe diventare molto più molto più densa via via che si va giù perché la strada da fare è parecchio lunga sono 6000 chilometri per arrivare al centro della terra quindi anche ammessa che questa piattaforma viaggi a qualche centinaia di chilometri l'ora ci vuole un bel po' di tempo prima di arrivare in fondo e quando si è abbastanza in basso scompare anche la gravità il che fisicamente è consistente perché c'è un teorema che dice che la gravità all'interno di un corpo è dovuta solo alla se il corpo diciamo omogeneo è dovuto solo alla parte di massa che sta sotto di noi quindi via via che scendiamo la gravità diminuisce e arrivati nel centro della terra non non c'è più gravità quindi loro per fortuna perché Archimedes aveva pensato e c'è anche dei motori queste ruote quindi non scende solo per gravità ma possono farlo partire possono far partire i motori quindi dice è il momento di far partire i motori che fanno girare le ruote infatti la gravità non ce la farebbe a farci scendere ancora e cominciano a sentire anche dei rumori che vuol dire che un po' di aria sta entrando probabilmente dalle fessure e quindi possono levarsi per fortuna le tute ora l'aria saltiamo un momento e poi torniamo chiaramente a questa avventura l'aria di solito viene molto trascurata nei fumetti in particolare anche Don Rosa per esempio guardiamo qua questo è un altro fumetto sempre di Don Rosa in cui Archimede ha inventato un cronometro in inglese si chiama stopwatch e il gioco di parole è che questo stopwatch effettivamente ferma il tempo cioè non che ferma il cronometro ma ferma proprio il tempo ferma il tempo tranne per tutti quelli che sono in un raggio di qualche decina di metri mi sembra intorno a chi ha questo stopwatch il fatto che si fermi il tempo fa sì che per esempio Bassotti cercando di sfuggire perché ovviamente i paperini prima rubano un mucchio di sodio a paperone perché fermano il tempo entrano dentro lo fanno ripartire giusto il momento per riuscire a acchiappare i sacchi di denaro e quindi tutto viene congelato e loro possono uscire con questi sacchi di denaro i paperini si nascondono in un sacco di denaro e quindi non vengono congelati e loro devono stare abbastanza vicini ai Bassotti per evitare che loro facciano partire di nuovo cioè interrompano e facciano ripartire lo stopwatch congelandoli allora nella fuga i Bassotti come vedete si arrampicano sopra questo stormo di piccioni che è rimasto congelato nel tempo e però dice si sono allontanati abbastanza dice adesso faccio ripartire il tempo no ferma perché se fai ripartire il tempo ovviamente i piccioni cominciano a muoversi e loro cascherebbero giù ora Don Rosa racconta appunto nelle sue memorie che sono pubblicate nell'opera Omnia che in realtà si era un po' pentito di questa avventura perché appunto non aveva considerato l'aria chiaramente anche l'aria dovrebbe essere congelata come come tutto il resto e quindi non si vede perché loro possano tranquillamente invece attraversarla in realtà lui dice aveva scoperto o si era ispirato a un racconto che non mi ricordo di chi in cui il protagonista invece non ferma esattamente il tempo ma comunque lo rallenta o viceversa rende più veloci quelli vicino e quindi praticamente si muove il protagonista in questa specie di liquido estremamente viscoso cioè non è che si è veramente fermato il tempo ma si è rallentato oppure viceversa lui è diventato totalmente veloce da muoversi molto velocemente e sapete bene che quando uno si muove molto velocemente per esempio attraverso l'aria l'aria fa una una grossa frizione è il metodo con cui si quando si si rientra da per esempio lo shuttle o è quello di planare di rallentarsi utilizzando l'aria in realtà Paperino in un'altra avventura sempre di Don Rosa aveva proprio sperimentato questo perché ha bevuto questo liquid isotope isotopi liquidi che devono essere dati solo ai ai ratti insomma ai topi che gli dovrebbe far renderli dovrebbe renderli più forti di un cavallo e allora Paperino che sta facendo il lo spazio no il postino però è sempre preso in giro dai nipoti perché non sa fare nulla doveva lui e diventa iperforte insomma dotato in qualche maniera di superpoteri e quindi che si muove talmente veloce che tutto il resto sembra congelato di nuovo questa volta perché è lui più veloce del resto però dice ah però aspetta un secondo quindi ha deciso di fare il giro della terra mi fa vedere ai nipotini quanto è in gamba però dice ah aspetta per me il tempo sta scorrendo normalmente sono gli altri che per me sono congelati che vuol dire che per me per attraversare la terra mi ci vorranno anni e anni è un po' troppo anche se sembrerebbero se sembrerebbe un istante ai ragazzini sarebbero mesi o anche anni per me sarà meglio non farlo troppo troppo antipatico e un'altra invece in un'altra avventura questa volta di Karl Barks del 64 vedete in cui Paperone hanno scoperto l'oro sulla luna e tutta la terra tutti chi è potuto insomma si è costruito un razzo per andare sulla luna a scavare l'oro e Paperone costruisce un razzo per andare sulla luna ma non per scavare l'oro ma per mettere su un bazar un bazar in cui per esempio vendono aria perché vedete arriva questo astronauta che non ha quasi aria glielo vende a credito e gli fa firmare un contratto in cui gli darà il 90% dell'oro che troverà e allora Paperini dicono ah cominci a capire perché così pochi minatori sono diventati ricchi nella corsa all'oro che è vero nella corsa all'oro quella famosa in California e poi dopo nel Klondike quella in cui è diventato ricco Paperone in realtà quasi nessuno dei minatori è diventato ricco anche se hanno trovato degli enormi giascimenti perché ovviamente quelli che diventavano ricchi sono i commercianti quelli che gli fornivano da mangiare a un prezzo che ovviamente aumentava tanto di più quanto più oro trovavano e quindi gli unici ricchi erano chi vendeva diciamo cibo chi vendeva attrezzi e così via e un'altra avventura sempre di Carl Bux che dimostra l'importanza dell'aria perché in questo caso Paperone è stato sfidato da un suo rivale a completare una corsa tra i battelli di quando lui faceva il guidatore dei battelli la storia poi viene raccontata per bene da Rosa che scrive appunto l'avventura mancante cioè racconta di quando Paperone faceva il battelliere e racconta come ha fatto affondare questa nave Bux lo dà per scontato insomma Bux gli interessava la sfida quindi la sfida di ripescare queste vecchie navi tirarle su e finire la gara mentre il suo avversario fa venire chiaramente operai e attrezzature per tirare su la nave Paperone vuole farlo senza spendere tanto per fortuna noi Paperini abbiamo avuto un'ottima idea siamo andati a comprare un mucchio vedete 2000 camere d'aria usate e 6 miglia di filo di ferro praticamente Paperino si butta giù riempie la nave di camere d'aria le legano tutte con il filo di ferro in maniera che stiano lì e non sfascino la nave e poi le gonfiano e a questo punto la nave viene spinta su dalle camere d'aria già un'altra volta l'avevano fatto anche con delle palline da ping pong ma effettivamente funziona è un metodo per tirare sulle navi quello di metterci dentro un contenitore e credo che addirittura se si va a vedere sui Mythbusters che non so se conoscete sono questi due passi scatenati che fanno diciamo vanno a sfatare dei miti voglio vedere se ve lo trovo e loro fanno vedere che effettivamente si può ritirare su una nave affondata vediamo se lo trovo l'avevo Mythbusters che è un'altra cosa non si è dimenticato di metterlo qua ma vediamo se riesco a farvelo vedere anche anche Barks lo fa questo quest'idea di di recuperare una nave un po' ve lo fareò vedere la prossima puntata se recupero l'avventura utilizzando palline da ping pong quindi questa è l'idea forse è la è la seconda parte vediamo un po' se si vede Sunken Ship seconda parte oppure una lettura fatta in quattro parti quindi essenzialmente con un tubone pompano dentro un mucchio enorme di palline da ping pong vedete qua che stanno buttandoci dentro queste palline e a un certo punto la nave questa è la pompa che sta sparando dentro le palline e a un certo punto non so in in quale puntata delle mille che fanno riescono a far a tirare sulla nave e c'è un'avventura di paperone ora mi sono dimenticato di metterla questa qui è venuta a mente ora e anche loro lo riescono a fare e me la metterò nelle slide che poi metto sul su internet va bene l'aria l'aria quindi è ben considerata tirano sul Titanic con l'aria compressa sì anche certo certo e e va bene allora siamo ritorniamo però al sorvente universale che è quella cosa che ci interessa e paperone il sorvente universale si è andato a piazzare nel centro della terra dove però non c'è gravità e paperone casca giù dalla dalla piattaforma e sta per andare a collidere proprio con il blob di sorvente universale che vorrebbe dire essere completamente eh dissolto lo riesce a evitare vedete ah è caduto oltre il centro ma guardate sta tornando indietro e però riesce a rievitarlo un'altra volta solo alla fine solo un pezzettino di cappello gli viene eh dissolto dal dal gradiente universale il problema è che tutto ciò non funziona per la fisica perché è vero che ora poi facciamo facciamo faccio vedere che teoricamente questo aveva già scoperto Newton se ipotizzando di fare un buco tutto intorno alla terra e di far cadere qualche cosa dentro questa qualche cosa farebbe un moto armonico però si è detto anche che la trazione gravitazionale è dovuta solo alla terra che sta sotto cioè bisogna fare una sfera centrata intorno a qualche d'uno anche se è all'interno della terra per esempio se noi siamo qui la trazione che uno sente è dovuta solo a questa sfera che sta tra virgolette sotto cioè come se fosse tutta la massa concentrata nel centro ma la massa che sta sotto di noi essendoci essendo nel mezzo un buco insomma che si vede appena appena essendoci nulla qui all'interno non c'è nessuna gravità quindi non c'è nessuna forza che dovrebbe ritirare Paperone verso di nuovo il centro dovrebbe semplicemente andare fino all'altra estremità del buco e se a meno che lui non si dia una spinta poi sulla parete dovrebbe rimanere lì quindi ecco questo qui è l'immagine che ci fa vedere cioè questo è il buco questo è il blob e qui è Paperone che cade questo dovevo metterlo forse prima e quindi va bene non è che Paperone cade però non c'è nessun motivo per cui gli venga attratto verso il centro della terra e neanche nessun motivo per cui il blob dovrebbe stare qui praticamente il blob dovrebbe probabilmente non so bene cosa fare andare avanti indietro ma insomma non c'è nessuna ragione per cui debba stare nel centro ecco dovrebbe continuare a rimbalzare e mangiarsi tutta la terra senza stare fermo e va bene però ora la cosa interessante è appunto che già Newton aveva ipotizzato anzi è una domanda che gli fa hook a Newton dicendo ah ma cosa farebbe un un corpo che cade all'interno di un tubo della terra se questa terra fosse diciamo vuota ma mantenesse la stessa attrazione all'inizio Newton sbaglia dice c'è una lettera in cui disegna una traiettoria un po' strana ma che è sicuramente sbagliata e in realtà lo risolve poi per una terra ferma che non ruota e giustamente nei calcoli si vede che il moto sarebbe un moto armonico quindi esattamente come una molla e in realtà questo moto armonico è esattamente lo stesso moto che farebbe la proiezione di un satellite in orbita su una direzione cioè se io se voi guardate un qualche cosa che gira di moto circolare uniforme ma lo guardate di traverso chiaramente non vedete il moto circolare vedete semplicemente qualche cosa che va su e giù la proiezione di un moto circolare uniforme su una diciamo su un asse è un moto armonico ovvero se volete il moto circolare uniforme è la composizione di due moti armonici cioè se io faccio un moto armonico lungo la y e un moto armonico lungo la x chiaramente se sono in fase non vedo altro che un moto armonico lungo la diagonale ma se sono in quadratura di fase cioè mentre uno è al massimo quell'altro è a zero mentre uno è a zero l'altro è al massimo da una parte e così via chiaramente se lo fate disegnare da un computer vedete subito che la composizione di due moti armonici in quadratura cioè con un sfasamento di 90 gradi uno rispetto all'altro è un moto circolare uniforme che vuol dire che questo moto armonico che farebbe così non è nient'altro che una delle componenti cioè il moto circolare uniforme di un satellite che gira intorno alla Terra e infatti se si fa i colpi si vede che sia quando ci mette per esempio una pietra a cadere e arrivare dalla parte opposta della Terra ci mette 82 minuti che è esattamente il tempo che ci mette la stazione spaziale internazionale a fare il giro della Terra la stazione spaziale internazionale ogni ora e mezzo circa fa il giro della Terra e insomma come vedete ci mette un bel po' di tempo ci mette quindi 40 minuti la metà per anzi no un quarto scusate un quarto 20 minuti a cadere fino al centro della Terra perché questo è il periodo 82 minuti ci mette andare dalla parte opposta e tornare indietro il periodo ora però invece nel caso del di una Terra a rotazione c'è diciamo mentre lui cade a meno che non lo facciamo da polo a polo se lo facciamo in qualsiasi altra direzione ci c'è anche una componente quella che si chiama la forza di Corioli nel sistema di riferimento della Terra ovvero il fatto che mentre lui cade la Terra gira e quindi quello in realtà gli vediamo fare una specie di rosetta di moto fatto così perché ovviamente non c'era mentre mentre va in giù la Terra gli gira e quindi quando arriva dall'altra parte in realtà la Terra ha girato e quindi è come nel sistema di riferimento della Terra è come se facesse un moto fatto più o meno così a seconda di quanto con che velocità gira la Terra ovviamente allora per finire il servente universale ritorna in un'altra avventura sempre di Don Rosa il Cavaliere Nero in cui c'è questo famosissimo ladro talmente abile da sfilare i rotolini dalle macchine fotografiche dei giornalisti che vogliono fotografarlo e anche da rubare il filamento all'interno del flash o rubare le mutande senza farsi scoprire da un giornalista quindi è veramente un ladro sofisticato vedete a Rapallo Don Rosa ci mette spesso l'Italia nelle sue avventure a Rapallo riusci a rubare tutti i quadri di questo famoso ristorante mentre tra le pause tra il primo e il secondo tanto per per dire quanto è rapido e veloce e ovviamente riesce a rubare il sorvente universale che Paperone ha tenuto nel suo deposito nella galleria dei ricordi pensando di rubare i diamanti però dice ma chi è che mette diciamo questo olio andato a male in questo vaso di diamanti poi si rende conto che appunto è il sorvente e l'altra battuta che fa è ovviamente francese lui e come vedete Don Rosa cerca di riprodurre diciamo la pronuncia inglese dei francesi per cui tutti i de sono diventati z no? e e sbaglia giro lose gears diventa zero lose gears perché è pronunciato alla francese ris diventa zis e così e allora che cosa fa lui? stavolta incolla la polvere di diamanti su un'armatura lo cosparge tutta di sorvente universale e quindi diventa diciamo invulnerabile per cominciare e riesce a fare le cose pazzesche tipo quando Paperino gli va per sbaglio intanto per cominciare vedete riesce a penetrare nelle muri nelle porte semplicemente dissolvendole qui è passata accanto a una cassetta della posta fatta fuori mezza Paperino non ce la fa frenare gli va addosso ma il risultato è che il Cavaliere Nero taglia in due la macchina di Paperino e per fortuna nonostante siano molto vicini non taglia un pezzo di Paperino o di Paperone e allora cercano di fermarla perché ovviamente lui si sta dirigendo lentamente verso il deposito quindi Paperino per esempio fa crollare tutto un edificio addosso al Cavaliere Nero il quale però si scava una bella galleria dissolvendo il il materiale no e poi però diciamo la faccenda non torna tanto prima di tutto non torna dal punto di vista energetico perché noi sappiamo che l'energia assume diciamo grossomodo due forme l'energia potenziale per esempio anche quella gravitazionale o l'energia cinetica e per esempio quando un satellite rientra in questa casa e Paperino che in un'altra avventura sempre di Don Rosa sono partiti con un aereo magari lo vedremo qualche altra in qualche altra puntata un aereo normale però convertito con un particolare propellente riesce ad andare nella stratosfera Paperino che indossa il suo paracadute viene buttato fuori dall'aereo quindi apre il paracadute ma c'è troppo poca atmosfera all'inizio il paracadute non fa niente quando rientra nell'atmosfera il paracadute brucia dovuto all'attrito con l'atmosfera ma è esattamente quello che succede l'avete visto penso qualche film in cui c'è il rientro o della capsule Apollo o dello shuttle che diventa incandescente proprio per l'attrito con l'atmosfera del resto le meteore non sono altro che pezzi di roccia o anche di metallo che brucia quando rientra nell'atmosfera quindi diciamo si sa che ora però l'energia si conserva quindi quando un'energia si trasforma in un'altra in particolare l'energia potenziale qui si trasforma in energia cinetica aumenta la temperatura perché da qualche parte questa energia deve andare quindi è chiaro che la materia condensata di solvente non può essere la forma più stabile della materia a meno energia se no lo farebbe naturalmente perché l'energia il primo luogo tende a meno quella potenziale tende ad andare verso il minimo dell'energia quindi se la materia fosse nella fase più condensata fosse quella più stabile in realtà ci andrebbe quindi tutta la materia dovrebbe condensarsi da sola in un'enorme stella di neutroni e rilascia tantissima temperatura ma si è visto che non funziona così perché in realtà la materia i nuclei più stabili l'abbiamo visto all'inizio erano qui i nuclei più stabili sono quelli intorno al ferro tutti questi qui eh che sono più densi sono instabili tanto più i nuclei formati solo da neutroni il che vuol dire che per costruire per fare questo giochetto qui che che per l'Alchimede viene fatto vediamo se lo ritrovo eccolo qua questo qui che per l'Alchimede è diciamo così naturale in realtà ci vorrebbe una quantità di energia mostruosa appunto ci vuole l'energia gravitazionale di una stella per comprimere la materia dentro quindi però a parte quello lì in ogni caso l'energia si conserva anche eh anche in maniera molto più semplice cioè se io faccio crollare questo edificio eh da qualche parte l'energia potenziale dell'edificio deve essere andare andrà in calore ma eh sicuramente eh diciamo la faccenda torna poco e poi ancora peggio è la quantità di moto cioè come vedete per esempio qui non Paperino intuisce che usando come proiettile un enorme diamante potrebbe questa volta colpire il Cavaliere Nero però purtroppo è troppo lento il Cavaliere Nero si accorge che c'è qualcosa mentre sta dissolvendo il cannone che è qualcosa che non può fermarlo perché c'è un diamante a dimensioni di una palla di cannone però lui taglia via qui l'ho coperto taglia via il culo del cannone così che quando si fa della polvere è il culo che parte rispetto a tutto il resto del cannone però che è giusto però se non si capisce perché il pezzo del cannone non prende una spinta almeno vagamente la metà di quanto la spende Paperino perché ovviamente la polvere dovrebbe esplodere tutte le cose e comunque anche se il anche ammesso che si dissolva visto che la massa abbiamo già visto nella materia dissolta rimane la stessa vuol dire che la quantità di moto rimane la stessa quindi anche se viene dissolta il buon Cavaliene Nero dovrebbe sentire la botta bene la pallata del cannone si risolve ma la massa si è detto rimane lì e quindi il Cavaliene Nero dovrebbe quantomeno essere spostato via da questa botta ancora più quando gli va addosso un missile vedete no e invece vabbè ovviamente non funziona per fortuna a conclusione dell'avventura Paperone che ormai si è messo si è rifugiato nel deposito e il Cavaliene Nero sa per farlo tagliare via la serratura del deposito e quindi entrare a rubargli lo ringrazia e il Cavaliene Nero dice ah grazie del tappeto rosso questo marcherà il mio successo allora Paperone appunto approfitta del tappeto per far perdere l'equilibrio al Cavaliene Nero che teoricamente dovrebbe cadere fino al centro della terra vedete che perfora tutti i vari piani dell'edificio di Paperone dei Paperoni per fortuna Paperone ha capito dov'è e sa che c'è a piano terra un il suo deposito di diamanti che ferma per la punta il Cavaliene Nero anche se gli dice non lo ferma gentilmente e quindi il Cavaliene Nero è svenuto che va bene quindi però la cosa buffa è che in questo caso qui effettivamente c'è la conservazione della quantità di moto ovvero che qui si piglia una bella botta anche se cioè in senso andare a sbattere per esempio contro un muro o quando c'è un incidente andare a sbattere contro il parabrezza ci crea i stessi danni che ci farebbe un parabrezza e ci viene addosso no? perché quello che conta è la differenza di quantità di moto di movimento di velocità tra un oggetto e l'altro oggetto per prendersi una botta quindi come qui sviene perché è stato improvvisamente frenato dagli amanti così dovrebbe prendersi la botta quando viene colpito da qualche cosa e ovviamente questo qui non funziona se no non funzionerebbe l'avventura quindi è giusto che le leggi della fisica vengano violate quando si racconta un'avventura direi che però oggi ci siamo se se siete ancora svegli non vi siete addormentati e se ci avete domande ovviamente sono sono qui se no ovviamente vi do appuntamento a giovedì prossimo quindi ditemi voi se volete dire qualcosa volete commentare mi raccomando di procurarvi un po' di queste vecchie avventure di paperone perché sono divertenti molto più divertenti anche di quelle moderne lei lo conosce Jeff Hook i fumetti chi? gli inglesi di Jordan Jeff Hook i fumetti Jeff Hook no no va gli metti in moto un pianeta con questa galleria polare ah guarda se lo trovo si Jeff Hook come falco si esatto Jeff Hook Jordan mi sembra che si chiama l'autore mi sembra che sia il terzo volume eventualmente glielo guardo ce l'ho perfetto ora se lo trovo da qualche parte sì dove si trovano queste avventure allora diciamo su internet su internet e su diciamo la cosa più semplice se volete ve le passo io sono però parecchia roba questo magari non la mettiamo nella registrazione però anzi facciamo facciamo finire la registrazione ma le registrazioni poi ce le manda però vengono a mandare ma la scatate su FISEX ho già messo quella la